INCHINATEVI AL RE! DIAGO! MOTTA! Io mi faccio solo una domanda stasera Cosa direte stasera? Cosa direte stasera? Che c'aveva facile giocare con i nuovi acquisti Quali sono i nuovi acquisti? Abbiamo giocato con una squadra di ragazzini Ben messe in campo Un altro 3 a 0 Occhio ragazzi perché questi qua zitti zitti Che bello è Che bello è Avete presente quando avete quella sensazione Di tristezza Perché La partita sta finendo Ecco io l'ho avuta questa sera Io quando mancavano 4 minuti Di recupero Ero super super triste Perché avrei voluto vedere Ancora tanti minuti Di questa Juve Sono anni Sono anni che non uscivo Questa sciarpa Sono anni Che non mi mettevo questa sciarpa alla testa Sono anni Sono anni Sono anni Sono anni Sono anni veramente Quindi Oggi siete stati meravigliosi Mi divertivo più l'anno scorso Mi divertivo più l'anno scorso Cosa gli vuoi dire? Adesso ditemi io che cosa gli dovrei dire Salutate la capolista Salutate la capolista Oh Era da tanto tempo che non lo dicevo più Primi in classifica Juventus sola Prima in classifica Sola davanti a tutti dopo due giornate Già Già la Juventus è vero Sono poche due giornate Ne mancano ancora 36 Ma è pur sempre meglio stare avanti Che stare indietro Nonostante io stia rosicando come un Calemano In color Zero gol subiti Prende Rocatelli Lo rifa nascere Prende Dusan Vlaovic Lo rifa nascere Prende Mbangula della Next Gen Prima partita Mbangula va in gol Prende Savone della Next Gen Prima partita Savone va in gol Intirate il re Intirate il re Tiago Motta Cazzo E se qualcuno aveva dubbi Siete tutti invitati sulla giostra di Tiago Motta Salite sulla giostra di Motta Ma neanche nei miei pensieri più pessimisti Del pessimismo più totale Pensavo di trovarmi a meno 5 Dalla Juve dopo due giornate Mai Mai Una Juve che gioca con Savona Che non sapevo neanche chi era fino all'altro ieri Hai fatto bene Calulo andati Ne hai fatto bene Almeno lì Almeno lì forse qualcosa vinci L'arma in più della Juventus vista nelle prime due gare E senza ombra di dubbio il coraggio Il coraggio innanzitutto del proprio mister che fa delle scommesse e le vince tutte Senza discussione di sorta Qui bisogna alzare le mani E qui bisogna alzare le mani Perché signori Questa Juventus sta dicendo la sua Ma in un modo esagerato Così comincia a vedere la Juve quadrata Cosa che Che sull'1-0 Se la Juve avessi segnato 1-0 Con quel morto danno che c'eravamo prima A quest'ora stavamo tutti in difesa Stavamo a fare i barricati Ma ve la posso dire una cosa ragazzi Quanto tempo ha perso la Juventus con Massimiliano Allegri Questa sera ho capito tutto Mi si è aperto un mondo Che forse non mi si doveva neanche aprire Perché poi in fondo ragazzi lo sappiamo tutti No? Quello che è stato Quello che è E quello che sarà Mi chiedevo Mi chiedevo Ma per la Juventus Se qualcuno mi può dare qualche delucidazione in più Ma esiste un regolamento a parte per caso? Esiste un regolamento a parte per la Juventus? No perché ogni volta che noi andiamo in gol Ci deve essere sempre un supplemento di tempo Ci deve essere sempre un controllo al bar Ci deve essere sempre un check Se esiste un regolamento a parte Che qualcuno lo dica Almeno così ci mettiamo l'anima in pace Motta sta facendo miracoli Già si vede la mano di Motta In questa Juventus Sapendo anche che sta facendo giocare i giovani E al momento ancora tutti i nuovi inquisti Non sono stati inseriti Mamma mia Mamma mia Mamma mia Bello 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 Benissimo così Benissimo così Soprattutto considerando in che condizioni Dal punto di vista della Rosa Che ti è ripresentato pure oggi E invece Nonostante tutto Mi sento anche quasi di poter dire Un'altra sanissima passeggiata di salute È a zero Tre peperoni della Juve La Juve vincerà lo scudetto La Juve vincerà lo scudetto Poco ma sicuro Le altre squadre Inter merda Napoli Pizzaioli Sono lontani Anni luce da questa Juve Fa veramente paura Io sono emozionato Credetemi se vi dico che sono emozionato Io vorrei Io vorrei Cioè Posso piangere Possiamo piangere insieme Possiamo piangere insieme Ma quanto è bello Ma quanto è bello Io vorrei veramente abbracciare tutti Li vorrei abbracciare tutti Vorrei abbracciare Tiago Motta Vorrei abbracciare Savona Vorrei abbracciare Vlaovic Vorrei abbracciare chiunque Chiunque Dopo tre anni Siamo primi in classifica ragazzi Finalmente Un bel gioco Finalmente Una Juvenso bella da vedere Tre gol con Como Tre gollo a Verona Due partite Sei gollo State mettete qua Due partite Sei gol Zero subiti Zero subiti Avete visto la il portiere Codice fiscale Che fa codice fiscale? Di Gregorio Cosa ha fatto Di Gregorio? Salutate la capolista Salutate la capolista Salutate la capolista Salutate la capolista Scusate Qualcuno le ha viste Qualcuno sa dove sono Qualcuno sa per caso Dove sono finite Psicodramma Milano Si può dire Ad oggi si E' fattuale E' fattuale Meno 5 Meno 5 dopo due giornate Il Milan Dei fenomeni E' rinato Paolo Fos Meno 5 Di sto pasto a fine anno Quanto siamo? Più 34 punti? Gli altri Ma Simone Zache Ma quelli la Ma si riconfermono Ne vincono un altro Meno 2 Meno 2 Quanto stai spendendo tu stai? Se non vinci niente quest'anno E' più fallimento quest'anno Che con Allegri Allegri aveva 4 bambini E' più fallimento quest'anno E' più fallimento quest'anno